Attenti! Questa storia è adatta per bambini e youtuber che sono in questo video. Iniziamo! Sono 200 anni che sono qui! Come fa? Aio! Ero già sceso! Ma aspetta un momento! Mmm? 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 Ma il filo! Era attaccato lì! Ok, andiamo avanti. Ehi, amico! Sì? Dimmi! Non dovresti essere qua. Qui, dove ci sono io. Ah! Ah! Ci sono dei mostri. Si chiamano anche Wagemommino Rex. Exxoncustmon! Dei mostri. Vattene, vattene! Veloce! Sciabalagoo! Oh! Oh no! No, è la mia fine! È la mia fine! Dove mi nascondo? No, è la mia fine! Tu hai detto che ci avrà finito il gioco! Ma, ma, shh! Ma, mi no, Conlex! Stai qua! Ciao, amico Madelo! Con il Conlex, ci facciamo dopo! Ok! Ah! Mmm! Era buono! Facciamoci! Facciamoci, amore! Tu! Tu! Tu eri dopo! Sono uscito da quel posto abbandonato! Speriamo che il mantello non sia morto! Oh, guarda, è il cioccolate! Mi potrebbe venire la diarrea se la mangio tutta! Ma, bonica, andiamo avanti! Ehi, tu! Oh! Porca zozza! Mi hanno scoprito! Sono nuova della Poppy Playtime! E cos'è la Poppy Playtime? È una fabbrica di giocattoli! E cos'è una fabbrica di giocattoli? Oh, basta! Ah! Eeeeh... 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 Non so se l'ho spinto con la mia arma, ma andiamo avanti! Non so se l'ho spinto con la mia arma, ma andiamo avanti! Non so se l'ho spinto con la mia arma, ma andiamo avanti! Un barattolo! Aspetta, apriamolo! Sono cavolo del barattolo! Apriamolo! Apriamolo! Sì! Ma porca zozza! 5... 5... Ma non si è capito che... Vado con la barca bianca! Non c'è nulla! Ma che c'è? No, 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 no Brucco Gianluco Però non sei tu Fratello Gianluco Loren, voi ti chiamerò Brucco Gian... Giuseppe San Giuseppe Oh, Mami Ma stai scherzando, no? Mi stai proprio scherzando? Vabbè, andiamo avanti con la mia pacca No, 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 no Uh, guarda qua Mi, Maya, Monkey Come ti permette a chiamarmi così? Guarda che ti posso distruggere già No, 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 no Adios, amico Diventa una palla È diventata una palla Oh, guarda, un'altra barca Ma, pomo, mio Ah Oh, Maria Ehm, questo lo devo mettere lì? Guarda, sta partendo là Ma questo ti parca Ma ci voleva proprio Guarda che c'è Due ore dopo Ma quello è Una scatola Una scatola rossa Con i 290.000 grammi di farina Con un biscottino Sono di Brawl Stars Ma io mi chiamo Poxy Bull Non mi interessa Tima È solo made Made in Italy Partiamo Brutto 3 Eh, questo 3 Non A Aspetta un momento ma come ho fatto aioioi quando mi sono fatto male aspetto un momento perchè sono in una prigione verde con cacca verde di shrek facile oh guarda qua io sono della terra di machine monster no aspetta un momento scappa ok ok andiamo di nuovo il barattolo il cavolo però non parla più e se lo butto ah no si rompe che sogno ho fatto dicevo parolaccio ho incontrato barattolo il cavolo ho incontrato dei mostri ho detto così calabrese extra vacanza e volete fare una vacanza con me su brown stars no aspetta ma il sogno è cioccolate vere barattolo il cavolo vero isola della terra di machine monster vero una mamma che sta succedendo che sta succedendo dietro di te dietro di te oh no ma quello è Doraemon 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 il gatto spaziale no 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 continua continua grazie grazie